Una ventina di giovani, alcuni dei quali minorenni, hanno inscenato una rissa a Cosenza in piazza Bilotti nel pieno centro cittadino. Due dei ragazzi coinvolti, un sudamericano e un africano, sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati portati in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha identificato alcuni dei ragazzi rimasti in piazza prima del fuggi-fuggi generale ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica della rissa ed individuare i responsabili. A tale scopo sono state sequestrate le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nella zona, che sono adesso al vaglio degli investigatori. Secondo le statistiche, la criminalità giovenile nella regione è in aumento negli ultimi anni e le risse sono sempre più frequenti nelle nostre città, causando preoccupazione, chiaramente, nella comunità locale. La Polizia di Stato sta lavorando per prevenire e contrastare questo tipo di attività criminose e la collaborazione con le istituzioni locali.